Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video su Warface. Oggi andremo a completare la missione Coop. Sempre ovviamente se riuscirò a completarla. Andiamo a vedere subito cosa è disponibile. Bene, facciamo questa. Aspettiamo che entra qualche altro... Lo avevo di nuovo. Ok, finalmente dopo che il nostro è finito di fumarsi una canna si può cominciare. Ho scelto la mia classe preferita che ovviamente è Assalto. Mentre per le altre classi abbiamo due medici, un ingegnere e un altro Assalto. Diciamo una squadra abbastanza equilibrata. Speriamo di riuscire a finirla, sta missione. Speriamo di riuscire a fare. Speriamo di riuscire a fare. Speriamo in fronte di Lion's Den, Blackwood HQ. Speriamo di riuscire a V.I.D. e Intel suggerisce che questo uomo sia il tante il trattato di Blackwood. Capita, incapacitate e non lo sopporto. Speriamo di riuscire a fai. Non lo sopporto. Speriamo di riuscire a fare. 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 Ok, sto di là. Speriamo di riuscire a fare. se no Bastardo il codice di accesso è in ritrovo cazzo mi sanno a fregare tutte le kill il lento Grazie! Ok, ok, ok. ok ammo health and armour restored teammates revive Sì oh my oh cazzo sto finendo oh fine dai il cazzo di me non c'è mo let's move to the 8th floor hold still John we're analyzing the data we managed to download from the Blackwood servers. As soon as we find any helpful information on the target, I'll update you ok, ripart restoration and revival complete oh cazzo oh cazzo oh cazzo cazzo ok è finita è finita è finita ok 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 ovviamente sono all'ultimo posto dato che mi hanno fregato tutte le kill più di cose non si può voler niente ok 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 item access to power right has been expired beh niente neanche la posso riprovare vabbè ragazzi per oggi è tutto ma prima di lasciarvi vi ricordo che se anche voi fate dei gameplay potete utilizzare se avete una scheda grafica in video potete utilizzare shadow play dato che occupessi le risorse e non influisce moltissimo sui vostri fraps anzi influisce proprio pochissimo cioè la differenza non si nota minimamente da quando si registra quando non si registra e notare avviene una complessione in tempo reale in mp4 quindi preservate anche il vostro spesso sulla desk quindi ve lo consiglio molto bene ragazzi per oggi è tutto video vi è piaciuto mettete vi piace iscrivetevi ciao